Il Campobasso ha ripreso a lavorare sotto la guida del nuovo tandem tecnico. Il duo di neo-allenatori si è preso una bella gatta da pelare nella fase cruciale della stagione con quattro turni da disputare di cui due partite sembrano essere fuori dalla portata dei Campobassani. Il Matelica, primo della classe prossimo avversario in trasferta del Campobasso, non può più sbagliare un colpo. È rimasto primo dopo una sconfitta, dunque per grazia divina ricevuta lo stesso. Pesaro non ha saputo compiere l'operazione sorpasso in vetta, merito indiscusso della molisana olimpia agnonese. A livello societario sembra che possano essere prossime ad arrivare altre vertenze sul capo del Campobasso. Tra queste la più papabile si dice che sia quella del preparatore atletico della stagione 2016-2017. Ma, ripetiamo, da voci di corridoio sembra che la lista sia destinata ad allungarsi. Tutto c'è nel capoluogo, fuorché una situazione di serenità in seno alla squadra, a dimostrarlo è il campo, che oltre a certificare cinque sconfitte consecutive mostra un undici che gioca a sprazzi e che si sgretola pericolosamente dinanzi alla prima difficoltà. Un film già visto e rivisto. Il nuovo allenatore dovrà cercare di intervenire anche sulla testa dei giocatori del Campobasso. Tra questi ci sono da segnalare i rientri di Augustus Cargbo e di Danucci dalla squalifica. Tanti gli scenari che si potrebbero configurare in queste ultime quattro di campionato da rilevare che sia il San Nicolò che la Iesina, che oggi si scontrerebbero in un play-out, hanno nel loro calendario dei giolli come la gara contro i Nerostellati, ci riferiamo al San Nicolò, che quella contro il Fabriano, ci riferiamo alla Iesina. Premessa indiscutibile è che tutte le partite vanno prima giocate. Domenica potrebbe essere matematica la retrocessione dei Nerostellati in eccellenza. Poco manca che succeda lo stesso destino anche al Fabriano da qui a due settimane. A proposito della vittoria netta del Pineto a Selvapiana, sentiamo il parere del giocatore abruzzese Pezzotti. Abbiamo fatto un'ottima gara, purtroppo c'è stato quell'errore sul primo gol, sul gol che abbiamo subito nel primo tempo, però per l'intera partita non abbiamo mai sofferto, anzi abbiamo preso un palo e una traversa, credo che nel secondo tempo abbiamo meritato ampiamente la vittoria e i tre punti. I cambi decisivi di Ciarcelluti e Farias? Sì, sono un po' di partite che ci capita, abbiamo una rosa ampia, dei ragazzi in gamba, siamo 23 titolari, quindi chi gioca fa bene, ma chi entra fa ancora meglio. Questa è la nostra forza, lo deve essere per le prossime quattro gare che ci devono portare dritti all'obiettivo che avevamo. Ottimo Pineto, specialmente nel secondo tempo, lo stesso periodo di partita nel quale il Campobasso non ha proprio giocato. Sì, non era facile, sapevamo che qui c'è un ambiente particolare adesso, veniamo da quattro sconfitte, quindi dovevamo avere un atteggiamento più propositivo nel secondo tempo, l'abbiamo fatto. Loro forse quando si gioca in queste condizioni ti abbassi un pochettino e noi abbiamo approfittato dei loro errori e siamo stati bravi a fare quello che eravamo venuti per fare. La vittoria è meritata, adesso andiamo avanti per la nostra stata, ancora l'obiettivo è lungo perché siamo a un punto dei play-off ma davanti ci sono squadre che stanno andando veramente molto forte. Adesso i scontri diretti diranno che la verità è chi è il più forte. Fortissima tensione a Selvapiana, soprattutto dopo il triplice fischio con giocatori a terra, insomma davvero scene brutte e ve lo aspettavate questo clima? Beh, sinceramente sì, Campobasso è una piazza esigente, purtroppo però io capisco anche i ragazzi perché quando poi si gioca con queste condizioni, società, non società, problemi finanziari, c'è un po' di tutto, quindi io capisco anche il calciatore che in queste situazioni soffre e poi quando poi le cose non vanno per il verso giusto c'è anche la sfortuna, c'è un po' di tutto e la giornata poi diventa nera, quindi ricapisco, gli faccio in bocca al lupo perché Campobasso insomma merita di rimanere in categoria e io credo che alla fine però si riuscirà a salvarsi.